Buongiorno a tutti, oggi è il 5 ottobre 2022, celebriamo quasi due anni di queste conferenze diciamo chiacchierate online perché abbiamo iniziato nel 2020 a collaudare questo canale fed virus che è un po' l'occasione per avvicinare gli esperti che gravitano intorno al nostro settore fare quelle domande che di solito in ambulatorio non si riesce a fare per questioni di tempi o di altro registriamo oggi questa chiacchierata con la dottoressa Giuseppina Sgandurre, ben arrivate grazie, grazie mille e la registriamo anche in previsione di una data importante che è la data di domani che è il 6 ottobre, la data in cui ogni anno si celebra questa ricorrenza della giornata mondiale della paralisi cerebrale infantile quindi oggi è un'occasione per noi per parlare un po' a tutto tondo della paralisi cerebrale infantile e appunto provare a investigare anche quelle che sono le evoluzioni che ci sono state negli ultimi periodi quindi cose di cui credo che poco spesso se ne parli quindi cogliamo questa opportunità cominciamo subito con un patto d'aula allora prima regola, ci diamo del tu va bene questo è andata questa è andata questa è andata perché ci permette un po' di ristabilire questo livello di confidenza la seconda regola è che ognuno di noi è consapevole dei propri ruoli quindi io rappresento la classe dei genitori per cui farò domande che non hanno nessuna base scientifica ma sono solo dettate dalla curiosità dall'altra parte invece abbiamo una persona che è esperta di questo settore quindi ci darà e ci spiegherà in linguaggio comprensibile un po' per tutti quelle che sono le caratteristiche di questa condizione, di questa disabilità quindi il fatto va bene tra l'altro proprio perché io cerco di usare un linguaggio comprensibile ma non è detto che ci riesca quindi farei una piccola clausola direi che se qualcosa non è diciamo così comprensibile accetto anche le domande chiarificatrici e cercherò di esserlo ancora di più più diciamo con un linguaggio più consone allora alziamo la mano su richiesta allora Giussi la prima cosa che ti chiediamo è di presentarti perché questa è un'altra cosa che poi si arriva nell'ambulatorio del medico e spesso il medico sa tutto della famiglia del bambino ma dall'altra parte si sa poco invece del profilo ci racconti un po' di te e del tuo percorso di studi perfetto allora io sono siciliana mi fa piacere dire questo anzi non sono siciliana ma vengo da Pachino che è proprio nel profondo sud è noto per un'eccellenza gastronomica che è il pomodorino ed effettivamente devo dire che io anche come il pomodorino ora non mi vedete in piedi ma diciamo che lì non si cresce tanto in altezza però come vedi mi piace anche il rosso perché è proprio il rosso del pomodoro e insomma a parte gli scherzi devo dire che insomma nonostante ora poi vi dirò che mi sono trasferita e sono in Toscana ovviamente le radici non vanno cioè sono radici veramente importanti mi sono laureata a Catania in medicina e devo dire che già da lì la tesi di medicina riguardava proprio la paranesi cerebrale infantile e vi do anche un altro punto riguardava anche un po' di tecnologia quindi diciamo che era un po' ero proprio non avevo grosse idee non sapevo perché era un po' di anni fa quindi dove ancora la tecnologia diciamo che insomma siamo sui venti anche inoltrati però proprio agli albori della tecnologia e la medicina sì 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 e lì devo dire che già avevo un po' di idee ma ovviamente devo dire che veramente non sapevo e se mi avessero chiesto un po' questo futuro anche nel migliore dei modi non l'avrei proprio pensato così quindi da lì in realtà con un po' un bagaglio di sogni sono partita per la Toscana perché ho avuto la possibilità di entrare alla scuola di specializzazione di neuropsichiatria infantile all'Università di Pisa che poi comunque si frequenta diciamo per la parte clinica l'IRCCS la Fondazione Stella Marsi di Calambrone quindi poi in realtà sono state poi le mie basi poi per tutta la parte della neuropsichiatria infantile vi racconto anche un aneddoto perché ho diciamo sono passata da un professore che si chiamava Cioni è un fisiatra della sicuramente insomma conoscerete lo conosceranno sicuramente almeno i siciliani conosciuto insomma in Sicilia sulla parte fisiatrica e proprio della paralisi cerebrale infantile e sono rimasta proprio per avere un punto in comune sono passata a un altro Cioni in questo caso Giovanni Cioni che è il professore di neuropsichiatria infantile dell'Università di Pisa e della Fondazione Stella Marsi e un altro punto in comune è stato poi quello della paralisi cerebrale infantile che è stato anche in quel caso nel mio percorso di specializzazione sempre un po' il mio cavallo di battaglia soprattutto nei miei interessi da lì fatta la specializzazione ho avuto un altro incontro importante per iniziare il percorso poi della parte più di ricerca e di dottorato con l'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna perché da lì abbiamo iniziato e da qui insomma il dottorato che è al Sant'Anna che era proprio sulle strategie innovative nella ricerca biomedica e anche lì si parlava un po' della parte principale è stata sia dal bambino un po' lo span e dal bambino molto piccolo quindi dai primissimi mesi di vita al bambino invece più grande con paralisi cerebrale infantile una serie di sviluppo di nuove strategie soprattutto diciamo di tipo tecnologico poi vedremo penso che ne avremo modo di parlare ed è stato anche lì un po' il percorso della parte del dottorato altro incontro importante è stato poi con il gruppo del professor Fogassi e anche il gruppo del professor Ferrari insomma con Reggio Emilia in cui subito dopo l'essere finito il dottorato ho ottenuto proprio un grant dal Ministero della Salute quando ero ancora giovane ricercatrice che era proprio un continuo sempre sulla paralisi cerebrale infantile sui neuroni mirror facevo il nome del professor Fogassi proprio perché è stato l'incontro per tutta la parte dei neuroni mirror con l'idea lì ancora c'erano solamente degli studi iniziali sull'utilizzo dell'action observation nell'adulto e da lì invece abbiamo un po' aperto un filone di ricerca sull'action observation nel bambino e quindi è da lì poi è stata tutta una serie di anni legati a vari progetti di ricerca che diciamo nel tempo sono anche molto aumentati ed eccoci qui e oggi quindi il tuo ruolo Giussi è sia un ruolo clinico ma anche di ricerca e di docenza anche quindi diciamo questi tre cappelli tre cappelli perché non ho detto la parte più importante diciamo che è quella attuale nel senso che ho iniziato un percorso e al momento di ricercatrice presso l'università di Pisa sempre in convenzione con la Stella Maris per la parte clinica infatti attualmente sono ricercatore senior con abilitazione diciamo a professore nell'ambito dell'area psichiatria infantile ed effettivamente quindi faccio tutta l'attività di ricerca con l'attività clinica e l'altra parte importante sempre in questo film rouge è il fatto che sono a capo di un laboratorio di ricerca e clinica che si chiama Innovate che sta proprio per un laboratorio di tecnologie innovative in neuro riabilitazione al momento sono anche molto fiera perché in questo laboratorio siamo circa 14 quindi anche qui c'è stato un espansione percentuale di donne all'interno dell'area? percentuale di donne 99% quindi lo diciamo con orgoglio in questo parlare di donne che studiano o che lavorano in professioni scientifiche quindi diciamo che qua abbiamo già un punto d'eccellenza eccellenza sì sì in cui è molto bello anche e questo è stato anche una cosa su cui ho devo dire che mi ha sempre contraddistinto un po' nel mio percorso il fatto di diciamo in alcuni casi di essere magari solo l'unica neuropsichiatra infantile nelle varie ricerche così ora come anche nel laboratorio perché a me piace tanto proprio la multidisciplinarità perché devo dire che il medico è bravo, importante fa carriera e tutto ma tutto questo è possibile grazie a un networking con un lavoro proprio di gruppo e quindi dove tutti è estremamente necessario essere veramente in gruppo per avere delle proprio non solo delle proposte di successo ma proprio successo anche in termini di arricchimento si parla tanto di arricchimento ambientale che è importante per tutti e secondo me anche nel lavoro è estremamente importante avere vari punti di vista poi in una condizione come quella della paralisi cerebrale infantile sono degli ingredienti estremamente importanti quindi avere il logopedista il terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva lunghissimo ma anche il il neuropsicologo e anche in un laboratorio come l'innovate anche la presenza di ingegneri bioingegneri informatici insomma vi dico un po' questi sono i punti e gli vari ingredienti che sono dentro perché sono estremamente importanti per poter fare un lavoro tutti insieme quindi l'equipa che noi tutti i genitori sogneremmo sul territorio quindi l'idea di entrare in un laboratorio e di essere un po' osservati a diversi punti di vista per cui secondo me è un buon un buon pilota il vostro che poi può essere anche applicata come buona pratica in altre parti d'Italia io Giussi mi orienterei sulle domande che abbiamo definito e che appunto ci permettono oggi di parlare un po' a tutto tondo della paralisi cerebrale infantile cominciamo dalle definizioni che cos'è la paralisi cerebrale infantile che cos'è la paralisi cerebrale infantile allora devo dire che c'è stata proprio un'evoluzione anche nella definizione della paralisi cerebrale infantile e ad ora la definizione che ha insomma che va un po' puntualizzata per diciamo parola per parola è un gruppo di disordini dello sviluppo del del movimento e della postura che creano determino delle limitazioni dell'attività dico sempre anche un po' ai miei studenti quando faccio lezione che queste parole hanno oltre ad avere una storia cioè nel senso che queste definizioni che in alcuni casi risultano ostiche perché uno dice ma vi devo imparare a memoria allora gruppo e in realtà anche il solo nome io la prima volta che ho sentito questa parola già il solo nome paralisi ti fa presagire un mondo di staticità di condizione perpetua da cui non se ne esce e invece no perché in realtà è una condizione che è vero che è cronica ma non immutabile questo dice anche la definizione questo è estremamente importante perché è vero cioè che l'etichetta diagnostica sembra una una condanna possiamo dirlo una condanna in realtà per questo dicevo è stata una tra le definizioni devo dire tra le varie patologie penso penso di poter dire che è quella su cui in qualche modo c'è sempre stato un lavoro proprio di ridefinizione come ad esempio in inglese non c'è più la parola infantile esatto ad esempio invece in italiano ancora ce lo portiamo anche se su alcuni capitoli di libro abbiamo iniziato a rimuoverlo e anche quello di parlare di le paralisi cerebrali invece di dire la paralisi cerebrale infantile perché perché come vi dicevo è proprio in questa definizione di gruppo di disordini addirittura c'è qualcuno questo insomma un po' di rumor un po' nei vari congressi che ci sono insomma nel mondo addirittura si vorrebbe mettere anche il termine usare il termine di spettro ora non perché sapete che c'è un po' questa sì che poi noi siamo abituati a sentirlo in altre condizioni lo spettro autistico infatti dico c'è sempre un po' questo match nella neuropsichiatria infantile tra la paralisi cerebrale e l'autismo perché effettivamente poi sono le due condizioni principe sulla parte tra virgolette più neuro e la parte più psichiatra ora non è che quelli che ci occupiamo i PC è perché vogliamo in qualche modo avere prendere dei termini dalla parte psichiatrica però in realtà dà un po' l'idea dello spettro anche se ricordiamo della varietà di condizioni della varietà di condizioni perché proprio sembra alcuni dicono forse il gruppo di disordini non dà così l'idea perché perché veramente è qualcosa di estremamente ampio si va da condizioni in cui diciamo così se vogliamo dire e sono anche impercettibili ok ha un occhio diciamo non anche non clinico in cui fai anche in qualche modo anche fatica nella comunicazione della diagnosi perché sempre ritornando alla storia del macigno dell'etichetta dare la diagnosi di paralisi cerebrale magari a un bambino che ha dei segni sfumati che neurologici in alcuni casi ti può creare un po' di difficoltà però è anche vero che in questo perché si chiama gruppo perché è stato e ormai è ben dimostrato che mentre la base quando uno pensa alla paralisi cerebrale pensa a un disturbo squisitamente motorio il termine gruppo vuole dire proprio che è vero che c'è e ovviamente abbiamo classificazione per cui abbiamo l'emiplegia la diplegia la tetraplegia e cose varie ma ognuno di questi essendo un disturbo invece più un disturbo potendo essere una condizione anche più multidimensionale una stessa forma in cui magari hai facciamo l'esempio dell'emiplegia siamo di casa nell'emiplegia anche lì hai da forme più sfumate a forme meno sfumate e non solo dal punto di vista motorio una stessa forma magari motoriamente simile può avere una serie di tra l'altro prima si diceva di disturbi associati ma in realtà non è come dire qualcosa in più non è che io ho vinto scusate il termine l'emiplegia e poi dopo anche il disturbo del linguaggio in realtà è un qualcosa che è completamente integrato e quindi questo fa sì che anche nell'ambito di forme motorie diciamo simili e sovrapponibili il quadro possa essere diverso e quindi da lì lo spettro perché la varia la sintomatologia di tutte della complessità del quadro che quindi va a prendere anche la parte del linguaggio la parte più cognitiva cognitiva intesa non come reticenza in senso solo di intelligenza ma più le capacità di pianificazione di apprendimento di apprendimento e poi e poi anche un'altra cosa che è tutta la parte anche del comportamento il comportamento devo dire che anche questa è una cosa su cui non c'è tanta ricerca ma ora sta un po' venendo fuori perché effettivamente quello che è essendo un disturbo diciamo possiamo dire non congenito quindi è comunque legato allo sviluppo ed essendo lo sviluppo psicomotorio intriso non a caso si dice psicomotorio questo fa sì che l'esperienza vissuta nella nello sperimentare magari quella che è la parte più che si vede lì più diciamo la parte motoria in qualche modo ovviamente ti cambia l'ambiente ti cambiano le relazioni e quindi anche il comportamento ha la sua ha una sua diciamo così ripercussione intesa in senso non necessariamente negativo ok è interessante è interessante quello quello che dici perché poi si riscontra anche nelle varie storie che noi ascoltiamo tutti i giorni dai genitori no la disabilità motoria è quella che arriva prima anche solo visivamente quella che si vede di più si vede di più la spasticità si vede di più un passo claudicante però poi nella vita quotidiana noi ascoltiamo racconti di mamme che dicono questo bambino piange sempre questo bambino ha dei momenti di burnout di esplosioni in cui non riesce a controllare le emozioni quindi ci fa piacere sentire da te che appunto ci sia questa connessione fra lo psico e il motorio e che quindi quanto è importante l'esperienza vantaggiarsi dal punto di vista motorio dell'esperienza per poi avere dei risultati anche da quell'altro punto di vista no e ti dico ancora di più che questo rispetto a quello che è tutta la parte dell'intervento precoce da lì il fatto che è vero molte volte tutto è stato centrato più sul bambino e quindi quello che ti dicevo no prima perché poi è il bambino che effettivamente sperimenta il fatto di avere una parte che magari che poi non è che il bambino sperimenta un qualcosa per cui lui è diciamo in un certo senso il bambino come dire non è che ha la tipicità insita il suo e il suo sviluppo a cosa voglio arrivare che in realtà un'altra parte cruciale è proprio la parte relazionale con invece il genitore che in qualche modo invece come dire sa quale dovrebbe essere la tipicità e quindi vuoi o non vuoi in qualche modo oppure anche con tutte le prese in carico precoce e tutto che bisognerà diffondere in tutti i modi in ogni caso c'è qualcosa di alterato se non già solo la paura di quello che può succedere di come sarà il bambino del fatto anche solo di avere l'idea che comunque c'è qualcosa che non va e anche il fatto di non sapere che cosa sarà nel futuro in ogni caso avere quel granellino di dubbio di dire forse qualcosa c'è questo cosa fa questo che ovviamente non è che va demonizzato perché allora uno dice no allora devo far finta di nulla o non di niente così non altero la relazione è qualcosa di estremamente personalizzato che va che va ben attenzionato proprio quindi ci stai dicendo che nell'evoluzione di un di un bambino anche dal punto di vista motorio psichico tanta parte è fatta dal contesto in cui vive ma tanto anche dall'aspettativa che il genitore magari ripone su di lui che è tipica credo anche della genitorialità nelle persone senza disabilità è un po' un'incognita per tutti però forse in questo caso questo tipo di relazione ha anche il suo peso sì voglio dire questo cioè quindi nel dire che effettivamente è qualcosa che intanto è insito nel senso che le modalità di accudimento di relazione e tutto tutti ce l'abbiamo diversi ed è e fa parte del nostro essere ma anche se consideri la storia quella che può essere stata la storia della gravidanza del no ci sono anche degli studi rispetto a quello che è l'aspettativa nel senso è maschio è femmina come sarà e tutto quelle cose diciamo un po' più così tra virgolette meno ovviamente che magari ci ridiamo no sopra un po' più soft rispetto ai temi di cui parliamo normalmente è proprio per dire che c'è questa componente ed è stato ben dimostrato dagli studi anche neurofisiologici che è veramente c'è proprio un connubio tra le strutture cerebrali materne perché ovviamente la diade madre-bambino è importante ma anche proprio insomma non dimentichiamo neanche papà insomma è tutto del nucleo familiare ripeto ovviamente quando c'è un sospetto o qualcosa ma anche solo lo stress di una nascita pretermine piuttosto che quindi dico neanche condizioni in cui dici vabbè è palese quindi anche in condizioni anche in questo caso un po' più soft ovviamente è estremamente importante anche l'attenzionale e la parte più relazionale da qui devo dire che però tutte le esperienze insomma nelle neonatologie tutto effettivamente è cambiato è cambiato tanto non è cambiata solo l'assistenza ora ovviamente a livello territoriale tutto ci saranno esperienze diverse quindi presumo che a casa non tutti saranno d'accordo però in generale devo dire che l'esperienza io lo vedo dall'osservatorio dal nostro osservatorio l'esperienza della terapia intensiva neonatale che è quella attraverso i quali il riparto attraverso il quale passano un po' tante di di queste storie è un'esperienza di accudimento di vicinanza di kangaroo therapy quindi tutto ciò che appunto abbiamo imparato mi sembra che sia stato in Italia applicato anche a livello territoriale quindi mi sembra un buon segno va bene quindi abbiamo parlato definizione di paradisi cerebrale infantile abbiamo detto viene prima il motorio storicamente forse questa definizione un po' ci ha deviato anche in termini di ricerca scientifica che più spesso abbiamo trovato soluzioni per aggiustare una manina cambiare il passo piuttosto che tagliare un pezzo di cervello nel caso delle crisi quindi andare proprio su interventi legati a questo deficit motorio però appunto ci dici tu che l'evoluzione è tener conto di una serie anche di altri aspetti ci racconti qualcosa anche in termini di evoluzione come trend del numero di persone con questa condizione o differenze anche da un paese all'altro quindi com'è messa l'Italia dal punto di vista dei numeri dei dati ecco com'è messa l'Italia diciamo che è messa che ci dobbiamo rifare a quelli che sono i numeri degli altri quindi purtroppo nel senso che non esiste un registro nazionale dell'Ade non esiste ad ora un registro nazionale della paralisi cerebrale quindi in realtà ci si rifà più a quelli che sono i numeri diciamo più europei e più internazionali sicuramente sappiamo che la forma più comune di disabilità in età evolutiva diciamo di disabilità motoria nell'età evolutiva per questo vi dicevo c'è un po' questa parte con la parte dell'autismo proprio per dire che sono e sono anche ormai abbastanza simili anche come percentuale diciamo che possiamo dire che un bambino su 500 nati ha il rischio di sviluppare una paralisi cerebrale infantile quindi parliamo di numeri importanti a livello proprio di incidenza e per quanto riguarda il trend diciamo c'è stato un po' un trend che un po' va in in parallelo a quello che diciamo c'è il miglioramento dell'assistenza diciamo che tende a da una parte all'inizio ad aumentare la paralisi cerebrale infantile e poi io dico sempre che questo aumento della perché cosa fa l'aumento migliore dell'assistenza da una parte migliora la sopravvivenza però questo aumenta quella che si chiama scusate morbilità aumenta il fatto di sopravvivo di più e quindi ho 10 anni con cui posso convivere con la disabilità poi dall'altra parte cosa succede che poi la tecnologia intesa in senso proprio generale di presa di cura e tutto migliora questo migliora sempre di più e quindi questo fa sì di capire come aggiustare il tiro e quindi ridurre anche la morbidità e quindi ridurre di nuovo l'incidenza quindi come se fossero due curve che si incrociano una cresce come pretermine come bambini più a rischio e l'altra invece che fa decrescere questa curva perché è l'innovazione della ricerca e della tecnologia sì e poi però diciamo quello che fanno che poi a un certo punto calano insieme perché quella parte lì della tecnica migliora non ce lo dico tipo sulla sopravvivenza di neonati veramente pretermine molto elevato a livello di età gestazionale prima sopravvivevano però effettivamente avevano un alto rischio di sviluppo di paralisi cerebrale infantile però come dire l'assistenza era così buona che sopravvivevano pur diciamo pagando con la paralisi cerebrale poi si diventa ancora più bravi nel far sopravvivere che a quel punto non sviluppano possono sviluppare comunque delle forme diciamo meno più lievi importanti più lievi ok quindi c'è un pochino questo trend nel trend ci sono stati un paio di picchi della di questa tendenza ora vi devo dire che sono andata un po' a cercare in letteratura perché effettivamente ci sono una serie di di varie interpretazioni diverse ho visto però che c'è una letteratura che fiorisce nell'andare a fare più le predizioni perché in generale diciamo che quello che si dice ora siamo in un momento di stasi cioè quindi in un momento in cui le percentuali sono quelle cioè chi dice ora io ve l'ho detto che rimangono 500 però diciamo c'è 1,5 2 su 1000 quindi siamo comunque su quei numeri lì in realtà quindi possiamo dire che ad ora la tendenza proprio generale è quella di una sorta di stabilità in realtà nelle proiezioni invece ho visto che hanno appena fatto delle proiezioni per il 2031 nel Canada e anche un altro studio molto grosso in Cina in cui invece stimano che ci sarà un aumento sia dei casi ma anche della prevalenza che cos'è la prevalenza la prevalenza è quella in cui diciamo quante mentre l'incidenza diciamo quanti bimbi nascono che poi andranno a sviluppare paralisi cerebrale infantile quindi abbiamo detto questo 1 su 500 invece la prevalenza è quella di dire quanti non bimbi quanti persone da zero a tutto il life span quanti hanno la condizione di paralisi cerebrale infantile e beh questo considerate che si conta che nel mondo ci sono ben 17 milioni di persone con paralisi cerebrale con paralisi cerebrale e la queste statistiche dicono che aumenterà perché aumenterà perché ci risiamo sull'aumento in parte dell'incidenza sempre per il miglioramento delle tecniche diciamo di assistenza quello della sopravvivenza insomma di cui parlavo prima ma l'altra cosa importante che non ci dobbiamo dimenticare è il fatto che che è una buona notizia il fatto che come aumenta la vita media di dei soggetti diciamo tipici sì e perché migliora non so insomma ci sono tutta una serie di fattori per cui dalla malattia cardiovascolare altro per cui viviamo più a lungo allo stesso modo diciamo la buona notizia è che vivono più a lungo anche i soggetti con paralisi cerebrale perché vivono più a lungo perché sono state fatte proprio delle delle proiezioni secondo le quali tranne forme diciamo di gross motor di livello grossomotorio molto gravi tutti gli altri hanno un'aspettativa di vita che è pari a quella dei soggetti diciamo così come dicevo così cosiddetti normali e questo fa sì che quindi aumentando la vita media di tutti aumenta la vita media anche della quindi aumentano il numero di persone in questa condizione in questa condizione e perché vengono fatte queste proiezioni le proiezioni vengono fatte proprio per andare a fare anche un bilancio di tipo economico sanitario da una parte e dall'altra e devo dire che anche su questo si inizia in qualche modo a trovare qualcosa almeno in letteratura che è quello sulla parte della qualità della vita e dell'assistenza perché ovviamente se ci spostiamo dal bambino piccolo non perché il bimbo piccolo non abbia bisogno di una qualità della vita però cambiano le esigenze cambiano le esigenze e quindi questo questa predizione dell'aumento fa sì che è necessario muovere le politiche anche se in questo momento è un termine un po' così difficile da usare però è così vanno migliorate le politiche perché effettivamente l'aumento della lunghezza della vita questo va visto se va poi a scapito rispetto a quello della qualità della vita e anche quali sono le assistenze perché tutto questo e questo sono sicura di trovare parere purtroppo diciamo concordante a casa e che mentre tanti passi avanti sono stati fatti nell'età evolutiva diciamo però sui lati più fino all'età scolare dopo diventa veramente un problema importante credo credo che quello che stai dicendo è molto rilevante per noi perché credo che sia un po' un interesse di tutta la comunità di poter abbassare anche i costi assistenziali poter garantire una qualità di vita un'indipendenza di vita credo che vada tutto un po' in questa stessa direzione per cui insomma per noi questi numeri queste tendenze che ci hai detto non sono così preoccupanti se dietro appunto c'è un pensiero una società pronta a lavorare su questo tipo di politiche raccontaci qualcosa anche del mix perché all'interno di questo grande ombrello che si chiama appunto PC c'è un po' di tutto dentro ci sono anche quadri che magari mimano il comportamento quello che noi vediamo dal punto di vista motorio della paralisi cerebrale infantile ma che magari non hanno avuto un danno al sistema nervoso centrale quindi raccontaci un po' com'è composto questo mix all'interno della paralisi cerebrale infantile e come il mix è cambiato nel tempo magari sono diminuiti i bambini con alcuni quadri quelli che tu hai visto all'inizio del tuo percorso e che non vedi più allora devo dire che quindi se proprio vogliamo dire in modo diciamo un po' più canonico le forme principali sono l'emiplegia poi abbiamo le forme di pleggi che diciamo che sono più forme bilaterali in cui però c'è diciamo che è un po' così a livello proprio span grossolano esistono le forme più unilaterali che poi è l'emiplegia fondamentalmente e poi arto superiore e arto inferiore impattati da una lesione controlaterale sì sì questo è diciamo la e tipicamente questa lesione nella maggior parte dei casi è lo stroke che ci dobbiamo ricordare che in realtà anche se tutti pensano che lo stroke prende solamente i sessantenni con la ipertensione e il colesterolo e cose varie in realtà ha una stessa incidenza ha un picco elevato così come nell'età adulta nel bambino tipicamente in quinta giornata di vita quarta quinta giornata quinta giornata di vita quindi nella maggior parte dei casi è questo quindi lo stroke in realtà esistono e possono esserci anche bambini nati pretermine che hanno avuto invece un'altra forma di diciamo si chiama infarto venoso e mentre la forma dello stroke è più di tipo arterioso però diciamo e quindi tipicamente sono bimbi che sono nati a termine che nella maggior parte dei casi non hanno una storia che può sembrare diciamo che questo dire guarda non ha una storia non è nato pretermine non è stato ricoverato in terapia intensiva me lo sono bello portato a casa e non c'era alcun tipo di problema in realtà diciamo può può avvenire uno stroke che di per sé non ha la stessa fenomenologia come la conosciamo nell'adulto e questo quindi dicevo tipicamente dall'emiplegia ci sono invece degli altri bambini con emiplegia che invece possono avere un po' una storia essere un po' nati pretermine e tutto e avere delle lesioni che se le andiamo a vedere sono bilaterali ma maggiormente a un lato e che dal punto di vista del quadro clinico danno proprio diciamo funzionalmente sono dei quadri con un interessamento di tipo unilaterale poi esistono tutte le forme più di tipo bilaterale nelle bilaterali cosa possiamo avere abbiamo o la forma in cui il maggiore interessamento è a livello degli arti inferiori quelli che alcuni prima chiamavano paraparesi in realtà diciamo paraparesi spastica pensando comunque a una forma della paralisi cerebrale in realtà questo termine nella paralisi cerebrale non viene più utilizzato perché le forme di paraparesi hanno quando c'hai un interessamento solo degli arti inferiori bisogna che ti fai due domande perché anche se in questo ampio spettro che diciamo anche della della diplegia i segni a livello dell'arto superiore possono anche essere proprio molto sfumati e in alcuni casi non veri e propri segni neurologici ma più di della capacità diciamo di mettere insieme le mani e comunque di utilizzo di pianificazione e così via diciamo che questi sono i quadri diplegici poi e quindi interessamento anche degli arti superiori però maggiore interessamento degli arti inferiori in questo caso la lezione non è di tipo stroke arterioso venoso ma quella che si chiama questo termine qualcuni leggeranno di leucomalacia periventricolare che sembra un nome un nomaccio ma si tratta proprio di un interessamento a livello bilaterale anche in questo caso può essere un po' più simmetrico o asimmetrico però a livello proprio dei ventricoli cerebrali tipicamente sono bambini nati in pretermine ovviamente la prematuranza è un fattore di rischio non è la causa non è che tutti i bambini nati in pretermine poi sviluppano una diplegia diciamo sono delle aree a livello periventricolare che nel bambino nato pretermine sono più suscettibili al fatto che se avviene un qualcosa diciamo nella o alla nascita o un minimo diciamo di sofferenza quelle aree lì diventano proprio malasciche si chiamano proprio così perché c'è un rammollimento proprio della sostanza bianca che ha un minore apporto di ossigeno vi dicevo che queste possono essere anche non solo simmetri e che ovviamente non esisterà mai che sono perfettamente delineate uguali da tutte e due le parti ma possono anche essere più asimmetriche addirittura da portare dei quadri che si chiamano di diplegia asimmetrica o anche detti doppia emiplegia cosa vuol dire? vuol dire che te hai un quadro di interessamento bilaterale però un emilato è più alterato rispetto all'altro emilato anche sugli arti superiori a questo punto anche sugli arti superiori una triple g sì non esiste ok ce lo siamo inventati adesso non esiste né monoplegia né triple no purtroppo esiste no no fa benissimo a dirlo ci sono tanti alcuni che ancora adora perché quello era il giochino dell'omino allora un atto mono due tanto ne vale che tanti studenti cadono alla domanda perché se te dici diplegia loro ti rispondono va bene due arti o due arti superiori o due arti inferiori e invece no cioè la diplegia in realtà è l'interessamento di tutti e quattro gli altri anche del del tronco però dove abbiamo questo gradient è un'altra cosa su cui cadono tanto gli studenti è quello di dire alla domanda di dire ma il diplegico classico cammina diciamo ha una funzione diciamo di spostamento verticale tipicamente lo studente non lo studente medio poi fa le lezioni e quindi impara diciamo un po' il dire comune ti farebbe pensare di dire non cammina perché se gli arti superiori vanno bene gli arti inferiori vanno male sono stati impattati in realtà no in realtà no ma in realtà non è così perché invece tipicamente il diplegico è in grado di spostarsi perché è vero che noi abbiamo bisogno degli arti inferiori per camminare ma siamo bipedi proprio perché abbiamo gli arti superiori che sono fondamentali per l'equilibrio per trattenersi e quindi se hai un buona funzione del tronco degli arti superiori pur con degli arti inferiori diciamo più funzionalmente alterati in realtà puoi spostarti questo può essere una anche su questo insomma c'è un po' da da fare degli appunti nel senso che bisogna vedere quella che è la funzione ovviamente quando uno parla di cammino pensa al cammino vero e proprio efficace quindi alla corsa allo spostamento e tutto in realtà diciamo che la funzione cammino anche questa è una funzione complessa per cui lo spostamento ad esempio può avvenire e comunque sei in grado di deambulare se hai degli ausili hai un deambulatore hai dei quadripodi insomma hai qualcosa per cui spostarsi grazie al fatto che hai gli arti superiori che ti aiutano perché invece la condizione più passiamo al terzo gruppo è quello della tetraplegia perché in quel caso lì invece cosa hai hai un interessamento di tutti e quattro gli arti anche del tronco e quindi non hai purtroppo non hai più gli arti superiori che ti aiutano per sostenerti e quindi anche per in questo caso devo dire che anche questo nelle reticenze della paralisi cerebrale infantile tanto si è focalizzato sulla parte del cammino e dello spostamento e purtroppo ora io invece ho l'apoteosi della manipolazione effettivamente diciamo che poi è la funzione dell'arto superiore ad essere estremamente importante poi ci torniamo su questa ci torniamo su questa cosa qua io qui apri una corta perché purtroppo ma questo lo vedete anche nell'ambito dei trattamenti e tutto è molto sembra molto più semplice e forse devo dire un po' anche non è sempre così semplice neanche con i genitori nella maggior parte dei casi sembra che lo spostamento e la diambulazione è quella che in qualche modo un po' risolve tutto e invece non è così cioè nel senso che puoi avere anche e anche alcune volte fare delle scelte per cui va meglio magari pur essendo in grado diciamo magari di fare dei passi e di spostarsi è meglio canalizzare diciamo le energie sull'utilizzo degli arti superiori che hanno un po' una competizione in alcuni bimbi con gli arti inferiori cioè nel senso che se hai e spendi diciamo tanta energia sull'arto inferiore ovviamente l'arto superiore o per fenomeni di irradiazione o proprio perché perché effettivamente diciamo fai difficoltà hai la necessità proprio di svincolare gli arti superiori dalla loro funzione per l'arto inferiore e quindi dire guarda ora ti sistemo un po' tutte le altre parti così mi posso posso svincolare l'arto superiore nelle sue funzioni questo torna tanto nei racconti dei genitori quando i nostri bambini si mettono in piedi che concentrano tutto sullo sforzo del cammino e quindi è come se tornassero un po' indietro anche sulle abilità che avevano acquisito sugli arti superiori però su questo non ti vogliamo approfondire su questo perché ci torniamo sicuramente dopo volevamo chiudere quest'ultima parte della classificazione sulla tetraplegia abbiamo parlato per ognuno di qual è la causa centrale nella tetraplegia parliamo dello stesso effetto sì il danno diciamo che in questo caso è molto più diffuso e quindi possono esistere o dei quadri in cui poi la leocomalacia si è molto e c'è un danno soprattutto anche a livello non solo per i ventricolari ma più corticale e in più nella tetraplegia possono essere invece anche dei bambini nati a termine quindi non pretermine ma nati a termine in cui c'è una grossa sofferenza importante che quindi crea una sfissia e una sofferenza dei generalizzata per cui in questo caso le lesioni sono non solo bilaterali ma sono sicuramente diciamo molto più e possiamo dire che l'impatto l'estensione della lesione è anche un po' correlato con il tempo quindi con ad esempio nel caso dell'asfissia quindi questi quadri più gravi esitano da situazioni in cui il bambino ha superato delle fasi di asfissia più lunghe si diciamo diciamo che è nì allora non possiamo dire che ovviamente diciamo che in un quadro di tetraplegia l'interessamento quindi la grandezza della lesione è tutto ovviamente più importante rispetto ad altri quadri quindi questo è vero che c'è così come è vero che maggiore è anche proprio il tempo maggiore correlato poi al danno ok però non è sempre vero cioè nel senso che non è sempre vero che c'è una correlazione netta tra la dimensione della lesione e la parte degli esiti è bene saperlo perché ci sono effettivamente dei casi in cui te andresti diciamo in qualche modo uno perderebbe perché effettivamente vedi delle lesioni molto importanti questo devo dire che capita soprattutto per la parte dell'emiplegia vedi delle forme veramente vaste e importanti invece dei quadri clinici dal punto di vista motorio che invece sono veramente molto lievi perché non esiste una netta correlazione tra l'estensione della lesione è il quadro quindi possiamo avere allora ti faccio un'altra domanda conta di più la zona oltre che l'estensione la zona conta e poi conta quello che è il motivo per cui siamo siamo qui che conta anche tutto la parte della plasticità cerebrale che è quella che io dico che è la nostra alleata da riabilitatori perché se noi non ci avessimo la plasticità cerebrale non potremmo stare tutti a casa e non fare nulla soprattutto appunto perché parliamo di bambini e per cui un potenziale è l'arma anche perché ripeto questa è un'altra cosa quindi l'estensione ha solo in alcuni quadri nella maggior parte dei quadri non ha questa correlazione c'è la sede ovviamente sono importanti però non rappresentano una fissità cioè non significa allora io ho la lesione con la dimensione X nella sede Y allora il mio quadro sarà così questo è anche il bello anche se il brutto nella comunicazione perché uno vorrebbe sentirsi dire penso come sarà allora uno diceva sarà così io credo che si è apprezzato l'onestà anche nel rispetto al guardare insieme non so gli esiti del neurodiagnostici guardare insieme la risonanza magnetica capire poi che appunto se si lavora in un'epoca molto precoce se si lavora sfruttando questo meccanismo della neuroplasticità poi insieme si possono cambiare le cose anche perché la diagnosi viene propria di paralisi cerebrale infantile non viene fatta subito alla nascita è qualcosa che viene accertato in un'età un po' più avanzata viene accertato in un'età più avanzata anche se purtroppo in alcuni casi troppo avanzata nel senso che purtroppo diciamo sono state fatte un po' delle medie in cui in alcuni casi si arriva a una diagnosi che va oltre l'anno di vita diciamo questa è una cosa che non deve succedere così come ovviamente ormai insomma ci sono delle linee guida secondo la quale sia le cosa applicare sia quali sono i loro indici di predittività e sia diciamo quando applicarli quello che diciamo si sta tentando proprio nella disseminazione anche delle linee guida della diagnosi precoce la cosa migliore diciamo è quello di fare una diagnosi almeno di una condizione a rischio di paralisi cerebrale infantile diciamo nei primi sei mesi di vita quindi in realtà diciamo sarebbe importante perché siccome è estremamente importante l'intervento precoce e sappiamo anche che l'intervento precoce prima inizia lo voglio dire che intervento precoce non vuol dire fisioterapia go go non me ne vogliano i fisioterapisti l'intervento precoce vuol dire tanto nella multidisciplinarità del tutto e inizia anche in in TIN quindi nelle terapie intensive che sono proprio le prese in carico precoci di dello sviluppo psicomotorio globale del del bambino del bambino allora molto utile questo quadro chiudiamo questa prima parte anche perché poi siamo andati lunghissimi ma io volentieri se c'è no no super utile per cui ti lasciamo parlare per quello chiudiamo questa parte qua un po' più legata appunto alla classificazione nel capire se nel tempo qualcosa è cambiato di questi quadri quindi oggi si vedono di meno non so quadri di plegici si vedono di meno o quelli che si vedono di meno sono i quadri di tetraplegia ok quindi diciamo si vedono di meno perché perché effettivamente almeno cioè si vedono di meno in Italia e in Europa purtroppo non nelle altre ecco facci anche questa distinzione no perché magari nella tetraplegia ovviamente come vi dicevo sono queste condizioni più di asfissia importanti alla nascita e e e anche delle condizioni in cui diciamo soprattutto nel passato ad esempio c'era o l'incompatibilità B0 per cui ormai tutti facciamo il test di Cums c'era tutta una parte di patologie infettive che poi portava anche a una maggiore suscettibilità no all'asfissia ma ormai si fanno ripeto nei nostri paesi tutti i controlli quindi tutta una parte diciamo tra virgolette che chiamerei proprio di prevenzione no quindi quelli che erano i danni da parto quelli che erano i danni da parto ma che erano da parto anche misconosciuti perché lo chiamavi da parto ma nella maggior parte dei casi erano pre-parto cioè nel senso che magari erano delle infezioni misconosciute come questa incompatibilità del gruppo sanguigno e anche tutte quelle che sono le malformazioni a livello precoce e tutto ovviamente ormai grazie all'assistenza in gravidanza e quelli che sono ormai diventati meno male livelli minimi di assistenza per cui fai tutta una serie di controlli ovviamente questo insieme al fatto che si partorisce in ospedale e che c'è ovviamente una grossissima assistenza questo non vuol dire che non ci sono più i quadri di tetraplegia però sicuramente sono più rari sono più rari questa è la forma purtroppo si stanno riniziando a vedere ma per tutto quello che ci circonda nel mondo per cui le forme cioè diciamo che soprattutto diciamo immigrati ma in condizioni non immigrati ovviamente in generale che sono inseriti nella nostra comunità ma immigrati magari quelli rifugiati e altro ovviamente invece in questo caso qui puoi avere un aumento del quadro della tetraplegia forse c'è un fattore anche vai vai invece si vedono casi questi qui invece proprio non si vedono più per fortuna che è quello del chernittero questo termino un po' così che è quello dell'iperbilirubinemia che quindi è una carenza di in quel caso è un rilascio di bilirubina che ha un particolare predilezione per i nuclei della base e questo fa sì che determina dei quadri di tetraplegia ma con delle forme discinetiche diciamo questo grazie sia alla parte del test di Cums perché tipicamente era l'incompatibilità materno-fetale che creava una rottura di i globuli rossi del bambino venivano attaccati e quindi rompendosi rilasciano bilirubina che va a finire a livello dei nuclei della base però diciamo sia per questo caso che anche per altre condizioni ormai sapete che esiste quando dicono hanno messo il bimbo sotto la lampada che è legato proprio al fatto che c'è una maggiore assistenza per cui vengono controllati i valori di bilirubina e appena sono lievemente più alti la lampada cosa serve serve proprio a convertire la bilirubina a digerirla diciamo e questo fa sì che poi non vada a depositarsi a livello dei nuclei della base e queste sono altre forme che effettivamente si sono diciamo che almeno io nella mia esperienza o bimbi che ormai sono diventati grandi invece bimbi diciamo nuovi non ne conosco bene un buon segnale un ultimo cenno giusi rispetto a questioni ambientali c'è qualcosa abbiamo detto queste curve che scendono curve che salgono c'è qualcosa anche a livello di inquinanti ambientali contesto in cui viviamo che magari può essere la causa di questi stroke e giusto un cenno rispetto ai quadri genetici invece certo allora sentili diciamo che ad ora non c'è niente di dimostrato quindi se si googola si trova tanto se si va su PubMed non si trova niente ok quindi diciamo diamo questa cosa per assodata ovviamente se questo uno vuol dire che le condizioni ambientali se mi dovessi dire ci potrebbe essere un qualcosa che noi perché sugli adulti c'è questa correlazione sulle malattie cardiovascolari cardiovascolari sì 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 per questo dico quindi come dire una e poi in ogni caso un bimbo viene dall'adulto quindi bisogna vedere anche qual è lo stato dove è vissuto quella dove è vissuto quell'adulto sappiamo anche che è una parte anche delle paralisi cerebrali al solito non è la causa ma anche queste mamme ci metto anch'io dentro attempate che facciamo i figlioli diciamo più tardivamente abbiamo più rischio ok o l'abuso di sostanze penso o l'abuso di sostanze e tutto quindi anch'io se ho una condizione anche diciamo più cronica di esposizione a agenti ambientali anch'io come mamma ovviamente poi il bimbo vive lì quindi però dire che la condizione ambientale abbia aumentato sia a causa della paralisi cerebrale infantile questo non c'è correlazione quindi già questo sono una ricercatrice per cui sono sempre aperta a qualsiasi cosa i genitori che conosco lo sanno quindi questo non vuol dire non è vero vado e retro è tutto però è un tema che sarebbe interessante studiare no perché con un'evoluzione delle città e del modo in cui viviamo probabilmente in un registro così uno potrebbe anche mettere chiedere queste cose fare anche un andare a vedere quando vai a studiare l'epidemiologia in Italia forse qualcosa lo potresti anche come dire avere un po' un dubbio su cui puoi fare un'ipotesi e poi poi validarla ok giusto per dire questo dovrebbe essere lì questa è un'area di studio e di investigazione che ci piace ci piace moltissimo per cui dici invece l'ultima parte genetica allora la parte genetica devo dire che anche questa ha avuto anche questa ha una storia nel senso che prima effettivamente tutte quelle forme che erano anche di tipo genetico rientravano nella paralisi cerebrale quindi tutte le condizioni di malformazioni in cui vabbè poi la genetica diciamo che in alcuni casi diciamo che in alcuni casi te sai qual è la causa genetica in altri casi come dire o do o puzzi di qualcosa di genetico però magari non sai qual è il gene esattamente responsabile voglio dire perché non sempre quando anche uno dice potrebbe essere una sindrome genetica questo non vuol dire che sai il punto preciso però che hai l'ipotesi che effettivamente ad esempio malformazioni gravi importanti che ti rendi conto che lì se non ci sono altre altre ipotesi c'è un qualcosa di genetico che però poi non è detto che ad ora sia diciamo stato scoperto qual è la causa la genetica magari può essere causa di eventi come lo stroke o l'infarto venoso questo sicuramente invece questa è la parte sulla genetica che ha invece c'è gran parte attualmente degli studi perché effettivamente ci sono sia delle condizioni genetiche che sono già proprio predeterminate ok quindi non so la la trombofilia piuttosto che insomma malattie nell'ambito genetico del 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 sangue che della circolazione diciamo che in qualche modo ti predispongono ad avere la parte dello stroke ma in realtà c'è anche qualcosa in più in realtà c'è tutta un fervore secondo lei il quale sembra che il fattore genetico abbia comunque il un ruolo importante anche nella patogenesi in particolare dello stroke ma in realtà c'è proprio un giro anche proprio sulle paralisi cerebrali da che cosa nasce nasce dal fatto che effettivamente quello che succede è che uno stesso bambino che ha ammesso che possa esistere diciamo uno stesso bambino che ha lo stesso grado di sofferenza oppure uno stesso bambino che ha comunque una storia diciamo simile uno può essere più predisposto a sviluppare anche una condizione che sia stroke o sia alto della paralisi cerebrale e un altro no quindi in realtà quello che dobbiamo tornare è proprio a questo connubio cioè al connubio che non esiste solo l'ambiente non esiste solo questa queste cause così ma in realtà c'è una sorta di diatesi si dice cioè di predisposizione al fatto che io con un mio corredo genetico sono più suscettibile a un a sviluppare una condizione piuttosto che un'altra ok perché perché noi siamo frutto non solo dell'ambiente ma siamo frutto anche della nostra genetica e nei nostri geni non c'è solo gli occhi chiari o i capelli biondi ma c'è anche ci può essere una certa predisposizione ad essere più suscettibili a una certa nox che ci crea poi la lesione a livello del sistema nervoso centrale da qui sappiate c'è un fervore anche qui sui vari congressi perché c'è tutto un pannello di geni prima l'hanno fatto e ci sono tutta una serie di studi anche nei prematuri e nelle mamme dei bimbi nati prematuri proprio perché per dire c'è anche una sorta di familiarità anche nella prematuranza e ripeto questo non vuol dire che si scopriranno i geni della paralisi cerebrale infantile lo dico sempre un po' in genio ci sono delle condizioni in cui si scopriranno i geni ad esempio questo sarà è possibile nello stroke perché nello stroke c'è una componente genetica importante che può essere eziologica cioè l'eziologia è quando te scopri la causa quindi dici effettivamente questa mutazione genetica mi crea questo quadro e questo è quadro eziologico quando si parla in generale nelle pc di genetica delle paralisi cerebrale infantili è un qualcosa un pochino di diverso cioè tra i fattori di rischio non le cause eziologiche cioè come faccio sempre l'esempio se sei obeso iperteso c'è il colesterolo alto e tutto se è più rischio di la ricerca si sta muovendo sul dire se hai un particolare trait diciamo genetico sei più predisposto a stiamo attenti perché questo non vuol dire allora che non concepirà facciamo una selezione ariana sulla base del pannello genetico questo vuol dire che se io sono più a rischio di avere una condizione magari l'assistenza o le cure nella prevenzione possono essere maggiori perché non so ho bisogno di più apportare più ossigeno ma infatti mi dai lo sputo per cogliere l'ultima parte l'ultimo capitolo di questa nostra chiacchierata che tocca invece un po' più la prospettiva futura parliamo di prevenzione e tu l'hai detto adesso no la la genomica piuttosto che la neurodiagnostica sono andate talmente tanto avanti negli studi e nell'evoluzione che forse ci possono far pensare presagire che si possa fare qualcosa anche in termini di prevenzione sulla paralisi cerebrale infantile te lo dico perché guardando appunto altre patologie io di mio non sono una persona invidiosa però ecco invidio invece la ricerca scientifica che avanza non so sulle malattie neurodegenerative piuttosto che non so penso ogni volta esiste qualcosa che possiamo dare per proteggere il cervello come facciamo quando proteggiamo i polmoni del bambino quando la mamma è l'ultimo trimestre di gravidanza esiste qualcosa che possiamo fare dove ti sembra che stia andando alla ricerca in termini di prevenzione in termini di prevenzione secondo me l'abbiamo già detto un po' parte da questa parte più genetica lo sai lì nelle altre patologie che ovviamente non dà risposta a tutti questo è bene diciamo saperlo dà risposta a chi ha quella particolare specifica condizione genetica e ha quella particolare mutazione ok quindi non è una panacea diciamo un po' che risolve che prende la pillola e guarisci va bene per tutti e quindi è importante dire questo però cos'è che hanno queste patologie su cui diciamo c'è una patogenesi che è ben è precisa è definita quindi ed è qualcosa che tra l'altro insomma ha proprio una storia è quello è la mutazione di quel gene quindi lì come dire in qualche modo non che sia stata facile l'arrivo però avevi un target ben specifico guarire correggere quel pezzettino di quella cosa quindi diciamo è semplice da questo punto di vista non voglio banalizzare perché veramente è difficilissimo però è come vado a sostituire col pezzo che non va qui dovrei sostituire i neuroni se volessi agire sulla dovrei sostituire i neuroni che però anche lì quali cioè quali neuroni dove e per farli diventare che cosa perché qual è la cosa che non è che io sostituisco il neurone che parla e mi codifica come parlo o come muovo l'atto inferiore essendo un come si è detto no che è una condizione cronica però non è immutabile questo cosa vuol dire che questi neuroni in un certo senso nello sviluppo psicomotorio un po' imparano col bambino cioè si formano col bambino io mi ha sempre colpito questa cosa del fatto che noi perdiamo milioni di neuroni nel nel primo anno di vita poi continuiamo a perdere ma quelli che perdiamo nel primo anno di vita è una cosa stratosferica io mi sono sempre chiesta ma perché nasciamo con questa dotazione in più con questa dotazione in più e e poi li dobbiamo andare a potare non potevamo nascere se effettivamente eravamo già i nostri neuroni erano geneticamente predeterminati noi saremmo nati con quelli lì che ci servivano e basta invece il sistema nel posto centrale che è veramente molto complesso nasce dico sempre come se fosse un terreno grossissimo giardino noi ci danno in dotazione ebbè c'è la genetica e tutto ma ci danno in dotazione un terreno un giardino grande dopodiché noi ci costruiamo la casa e ce la costruiamo con la nostra predisposizione genetica ma anche con l'ambiente e l'esperienza il bimbo nei primi mille giorni di vita fa tutto quello che è possibile perché praticamente diventa in un certo senso un adulto perché poi a due anni un adulto zippato che è già zippato poi è vero che di nuovo cresce impara va a scuola però lì c'è un concentrato e questo concentrato di cosa deriva una cosa particolarissima dalla perdita di neuroni cioè dalla selezione dei neuroni che te in qualche modo in quel momento in quell'ambiente e tutto decidi di fare di come costruire diciamo un po' questa casa che ripeto poi potrà essere rimodernata cambiata e tutto e quindi non è che si chiude la casa lì è lì rimane però diciamo le fondamenta sono quelle quindi ritornando alla domanda questo in qualche modo è un po' un mistero che fa sì di dire grazie a questo io ho tutta la plasticità cerebrale quindi anche se alcuni neuroni diciamo vanno via io ho tutta l'altra dotazione quindi sarò forse magari un po' diverso rispetto a quello che potevo essere però l'impalcatura me la faccio e questo è bellissimo dall'altra parte questo però fa sì che se quel pezzo era un pezzo come dire un po' indeterminato senza forma io non lo posso prendere e andarla a sostituire perché io non lo so come doveva essere dovrei rimettere un neurone generico che magari poteva essere il neurone che io avevo alla nascita e lì apriamo la discussione delle cellule staminali perché lì poi diciamo ovviamente il grande diciamo in qualche modo il grande sogno è la grande sfida qual è il problema che è nel momento in cui almeno questo è gli studi animali perché ovviamente si parte tutto da studi di fase 1 nel momento in cui ti metti una cellula diciamo totipotente che quindi può fare la qualsiasi cosa una cellula che può sviluppare abilità di tutti i tipi diciamo che questa diventa incontrollata e quindi i primi studi che sono stati fatti nel modello animale beh riparava e riparava anche bene però il problema che poi diciamo tra virgolette impazziva che poi è il problema del nostro diciamo della nostra società che è quello no dei tumori perché sono delle crescite incontrollate effettivamente di cellule che è in grado di autorreplicarsi diciamo si moltiplicano un po' per i fatti loro e c'è una ricerca su insomma e devo dire che anche su quello secondo me diciamo uno dei problemi sul fatto che non ha dato grosso avanzamento su questa parte è legato al fatto che si sono aperti diverse linee di ricerca ora non è un problema perché può essere anche il lato positivo cioè nel senso che prendi le cellule mesenchimali prendi quelli dal cordone prendi quelle periferiche e prendi li fai crescere con l'NGF insomma ci sono varie cose e con l'idea di andare a capire diciamo quelle più domabili e quelle che ti permettono di più di andare a effettivamente diciamo fare questa sostituzione in qualche modo che si è detto ci sono dei bei passi ci sono degli studi ora in fase 2-3 tra l'altro uno approvato dall'NIH però è tutto ancora un po' da vedere perché ripeto ci può essere un cioè è da vedere perché il problema e questo però sappiate che lo sono anche quelli delle sma così insomma della parte diciamo delle terapie geniche che devi attendere perché è vero che puoi avere un recupero della funzione poi come vi dicevo va capito un pochino più a medio termine cosa succede anche perché forse ci sono delle funzioni non lo so mi viene da dire una domanda così proprio out of the blue ci sono delle funzioni più facili da recuperare delle funzioni più evolute non so immagino oltre a quello te considera che sono delle funzioni di quello di cui ci occupiamo noi che sono delle funzioni che si formano con la in determinati periodi della vita e con determinati stimoli ok per cui non è soltanto prendere il pezzettino metterlo lì dentro e pensare che lui attecchisca come se fosse un organo mi servo per dire o per fare questa cosa questo è un po' questo è proprio il problema l'incognita quando c'hai il codice genetico quello vuol dire che quella cellula fa a quella funzione fa a sostituire senti noi abbiamo parlato adesso un po' di prevenzione non ci è detto se esiste una sostanza o qualcosa che possiamo prendere per proteggere il cervello però abbiamo parlato un po' anche di cura di terapie quello che si può fare io chiuderei questa parte qua dicendo cioè capendo da te quello che può essere l'innovazione quello che tu hai visto tu che frequenti i congressi e appunto ti relazioni anche con altri con altri esperti con altri ricercatori in questo in questo mondo qui cos'è l'innovazione in questo mondo delle paralisi cerebrali infantile qual è il leading edge della ricerca dove sta andando e che cosa ci possiamo aspettare nel breve o nel medio periodo devo dire che l'innovazione dal mio punto di vista è tutto l'utilizzo delle tecnologie di quella che si chiama la digital health cioè questa l'utilizzo di tecnologie non solo per riabilitare ma anche per fare la diagnosi però cosa si intende come la intendo io in questo caso la diagnosi non una diagnosi di dire c'è una paralisi cerebrale ma anche se ci sono un po' di c'è una parte un fervore anche su da questo punto di vista cioè andare a trovare degli indici precoci anche grazie alla tecnologia e quindi fare degli screening diciamo in un certo senso di massa con dei giochi sensorizzati che vanno a trovare a detectare se effettivamente il bambino si muove in modo diverso rispetto a quello che ci si attende e questa è una cosa proprio futuristica che devo dire su cui c'è una linea di ricerca che curo con il professor Cioni proprio su questa parte insomma chi mi conosce sa che siamo partiti dal care toy ma in realtà oltre al care toy che è questa palestrina che portavamo a casa dei bambini per fare la tele reabilitazione ora ci stiamo un po' muovendo nel dire vediamo se proprio questo l'utilizzo di sensori di giochini sensorizzati ci può permettere di fare proprio uno screening ovviamente questo non sostituisce la clinica il follow up e tutto questo ma che mi permettono anche perché io da innovativa pensando al fatto che questi bambini giocano giocano a casa che è la cosa più bella che possa esistere anche perché quando li portano in clinica non faranno mai quello che fanno a casa e quindi dire effettivamente lì se ci fosse una tecnologia nascosta che mi fa misurare cosa quanto prende cosa fa come si gira in un ambiente di vita naturale in un ambiente di vita naturale ho il report così come ho la crescita dei percentili dell'altezza piuttosto che del peso e altro magari invece lì ovviamente non è tua coi pediatri e tutto è posso sapere come si muove la qualità e la quantità del movimento quindi vi dico questo è un po' i sogni nel cassetto un altro l'altro sogno è quello sempre in tematica di digital health e però ci siamo sempre collegati quello di fare una sorta proprio di diagnosi funzionale che dicevo è quella di dire noi ad ora cosa abbiamo abbiamo delle classificazioni funzionali che alcuni di voi genitori li stressiamo sempre facciamo vedere allora livello max per l'abilità manuale il livello gmfcs per il grosso motorio ora c'è anche sono 5 le scale funzionali c'è il visivo la comunicazione la decludizione però perché abbiamo creato queste scale funzionali classificazioni funzionali perché è vero che io vieni bimbo lo misuro faccio e tutto però la vera parte importante è la capire che cosa succede nella vita di tutti i giorni perché io posso cambiare posso dire che il livello ha una scala clinica in quel modo ma questo non è detto che sia quello reale ma non soprattutto quello reale non so veramente poi durante la vita di tutti i giorni cosa cosa succede e che cosa qual è il bisogno ovviamente lo posso chiedere qual è il bisogno però in termini proprio quantitativi ad ora abbiamo solo queste classificazioni dicendo quanto usa la mano quanto si sposta sono delle fotografie statiche sono delle fotografie statiche l'idea qual è innovativa di dire se io tramite la tecnologia vado a anche in questo caso a misurare come si muove come usa l'arto perché noi ormai senza saperlo usiamo tutta una serie di app di wearable sensor tutto che ci dicono quanti chilometri abbiamo fatto quante calorie abbiamo introitato consumato e cose varie quindi anche qui l'idea pioneristica diciamo di dire ma se noi riusciamo a misurare un po' il comportamento tramite quelle tecniche diciamo digitali possiamo in qualche modo fare un vero e proprio quadro di funzionamento cioè io sarò il ragazzino che mi muovo un po' di meno sono più sedentario che però quando mi muovo muovo tutte e due gli arti oppure faccio meno step cioè meno cammino e cose varie e poi ci sarà quell'altro con un altro stile di vita e da lì insieme alla clinica dire allora funzionalmente io sono così ma funzionalmente veramente a 360 gradi che cosa posso cambiare o se devo cambiare quindi medicina personalizzata quindi medicina personalizzata quindi personalizzata in base a quello che è in questo caso il tuo target mi fa piacere dire questo nuovo nome così lo diciamo oggi che siamo nel mondo dell'omica e tutto spieghiamo spieghiamo su questo nuovo nome che si chiama digitoma cos'è il digitoma che deriva dalla digital health è il fatto di acquisire tutta una serie di dati del comportamento umano quindi in realtà sappiate che già anche nelle croniche giornali c'è qualcuno che già lo sta facendo per noi c'è qualcuno che già lo sta facendo non nell'ambito sanitario ma lo fa perché non so quanto paghiamo come paghiamo dove ci muoviamo poi vai a vedere anche in base a quello che sono le assicurazioni c'è tutto in realtà purtroppo la medicina invece ci sta arrivando più tardivamente quando invece soprattutto nella paralisi cerebrale è la parte principale cioè quante volte mi sono trovata a parlare con i genitori perché effettivamente quello di dire ma come cioè come cosa dobbiamo fare e tutto perché ad ora i clinici questo è il mio punto di vista siamo sì multidisciplinari però possiamo valutare quello che vediamo in quel momento e in quel momento soprattutto alcuni mimmi non è detto che siano neanche così molto collaboranti molto collaboranti ora non è che voglio fare ovviamente non è il grande fratello e non è neanche che dobbiamo digitalizzare tutto ma questo digitoma della paralisi cerebrale sarebbe molto interessante da fare bellissimo questo ci dice ti vogliamo strappare una promessa che la prossima puntata di questa cosa qua tu ci parlerai più nel dettaglio di questo di questo progetto anche INCP quindi l'intelligenza artificiale nei paralisi cerebrali infantili che va a fare proprio questo per cui non te lo chiediamo adesso noi ci avviamo verso la la conclusione due cose una perché è rimasta da prima e bisogna chiuderla questa cosa tu hai parlato più della manipolazione rispetto al cammino quindi nel percorso di riabilitazione perché queste mani sono così importanti perché non è più utile per noi che siamo persone che si spostano che vedono l'autonomia e l'indipendenza come il movimento nello spazio perché non sono più utili le gambe rispetto invece alle mani perché diciamo purtroppo mentre la funzione del dello spostamento è una funzione molto vicariabile e su cui lì si è andato molto avanti esiste spiegaci questa cosa la possiamo spostare nelle zone del cervello la possiamo spostare con gli ausili ci possiamo far aiutare dalla robotica entrambe le cose cioè nel senso che ci sono gli ausili che ci aiutano e quindi come dicevo se io mi stanco e tutto è vero posso avere il pattern del cammino però se mi stanco posso avere una carrozzina supersonica spostarmi giocare con gli altri e fare di tutto quindi da qui il termine diciamo vicariabile cioè è vero è bene questo non vuol dire che noi non dobbiamo lavorare e fare i training per la funzione cammino che è una funzione importante però diciamo è una funzione che possiamo in qualche modo in alcuni casi appaltare in ogni caso poi esistono ripeto esiste la robotica visto che siamo in termini di innovazione esiste esistono tutta una serie di trattamenti ma anche dal treadmill che ci sono tutta una serie anche di studi su quello realtà virtuale esiste di tutto di più perché mi posso permettere ad un certo punto che se quella cosa non la faccio oppure non voglio poi neanche spendere è dispendioso energeticamente perché noi il nostro corpo funziona energia cioè nel senso quindi se investo un'energia per fare una cosa ce n'ho meno per un'altra ce n'ho meno per un'altra qual è il problema il caveat che invece per gli arti superiori non c'è grandi cose cioè nel senso intanto gli arti superiori abbiamo detto che fanno servono anche per il cammino l'abbiamo dimostrato prima e poi non servono solo per quello ma servono perché noi se ci pensiamo tutto quello che noi facciamo è vero che noi ci spostiamo però ci spostiamo per utilizzare le mani cioè usiamo i nostri piedi che e se poi anche vedete il movimento anche il movimento dell'arto inferiore è un po' è ciclico è un po' quello il movimento dell'arto superiore deriva da possiamo usare per noi italiani poi quindi forme di prese forme l'uso è strettamente correlato al cognitivo e alla pianificazione insomma ha una cosa cioè ha un'importanza ripeto nella vita quotidiana per cui diciamo mentre la dico tranne guardare la televisione però ti serve comunque accendere il telecomando diciamo che è in un certo senso proprio portandola all'apoteosi mentre stando stando diciamo fermo puoi stare fermo con le gambe ma le mani le devi usare per fare tutte le cose e poi l'hai citato adesso tu è una funzione che se riabilitata si porta dietro anche altre funzioni quindi il cognitivo il sociale ma considerate che anche l'origine del linguaggio è sulla sulla funzione manuale perché noi le nostre prime parole sono i gesti e per cui quindi anche l'origine del linguaggio ha un'origine motoria dell'atto superiore quindi questo è giusto ci hai detto prima frase giusto rispetto a quello che ti auguri domani per questa giornata della paralisi cerebrale infantile 6 ottobre 2020 e quella che magari può essere un'altra edizione di questa giornata quindi domani è già arrivato è un augurio 22 22 2022 sino a 2020 siamo retrocessi al e che però il 2020 non lo toccherei del 2022 però anche pensando al futuro quindi un augurio per le famiglie che ci ascoltano beh un augurio per le famiglie che ci ascoltano devo dire è vero che siamo qui e siamo insieme e direi il passo in questo perché diciamo purtroppo un po' nelle cose che ho detto ho detto tante cose e la cosa secondo me l'ingrediente importante che mi aspetto la prossima volta è quello che ci sia e nei nostri progetti ci sia il ruolo attivo delle famiglie e quindi anche qui che io vi ho detto per dire a me piace la digital health mi piace misurare mi piace questo co-sviluppare co-disegnare queste soluzioni perché uno dei problemi principali secondo me della ricerca o almeno di una parte delle ricerche è il fatto che soprattutto nell'ambito tecnologico è quello che noi abbiamo si lavora per per cose e poi quindi ecco questa è la soluzione secondo me se vogliamo fare questa rivoluzione perché comunque è una rivoluzione anche il pensare di voler mettere sensori piuttosto che app piuttosto che anche come dire in un certo senso dire anche a un genitore guarda non serve più ti mando così non perché lo pensi però non so guarda basta che lo vedo una volta poi dopodiché ti mandi questi sensori mi mandi le cose poi rivedo i dati questo è un sogno per le famiglie stai prospettando un futuro che è un futuro di vita anche con ritmi più umani più vicini alla sì questo secondo me si può fare solo se lo disegniamo insieme ci crediamo insieme quindi diciamo una cosa potrebbe essere che la prossima volta ci facciamo intervistare da qualcuno un altro oppure dopo che te intervisti meglio intervisto te fantastico fantastico l'intervista ribaltata ci piace molto per cui va bene va bene no volentieri Giussi ti ringraziamo per questa disponibilità di tempo di valore che ci hai dedicato e mi sembra il regalo più bello la conoscenza la distribuzione della conoscenza che possiamo fare proprio in occasione di questa giornata grazie ancora e alla prossima puntata ciao arrivederci a tutti ciao 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 ciao